Domani terzo incontro di campionato e il termo li affronterà in casa la neopromossa Castelfidardo, squadra da non sottovalutare se si considera la scorsa giornata di campionato quando a pochi minuti dal triplice fischio i marchigiani hanno battuto tra le mure amiche 2-1 l'Olimpia agnonese. Durante la settimana intensi gli allenamenti per i ragazzi di mister Catalano che in questo terzo match hanno come obiettivo quello di intascare i tre punti e quindi con l'incontro di domani segnare la prima vittoria di campionato. Il mister della compagine adriatica avrà a disposizione anche Nicolas Dirito e Santoro, l'unica maglia che potrà mancare è quella indossata da Maiorano. I giallorossi ancora una volta scenderanno in campo con il dinamico 4-3-3 con Natali confermato tra i pali, dispoto sulla corsia di destra, Zeetti su quella di sinistra, con Ruggeri e Ciro Poziello al centro della difesa, Simonetti, Caprioli e Franzese a centro campo, Fulvio Dirito, Raffaele Poziello nel tridente offensivo. L'incontro Termoli-Castelfidardo si disputerà domani al Gino Cannarsa, match con fischio d'inizio alle ore 15 dato dal signor Salvatore Marco Di Benedetto di Barletta, coadiuvato da Antonio Turriello e Antonio Santamarina, entrambi di Napoli.